Quali sono queste leve che ti fanno scattare questa roba? Ci sono tanti motivi, ti posso dire, io posso perdere la testa per un alito in discoteca, perché mi guardano la donna, o perché la mia fidanzata appunto magari vuole parlare di una cosa che per lei magari è una priorità, quando per me può essere una stupidata. Però dico, ciò che lega tutto, cioè tutte queste cose così diverse tra loro, è l'interruzione della mia quiete. Cioè io, come dico sempre, sono una persona che tutto sommato, nonostante i demoni interni, le mie angosce, però vivo la vita in maniera abbastanza lineare. Cioè io mi sveglio la mattina e so che se nessuno mi viene a rompere le scatole, quasi sicuramente vado a letto nella stessa maniera. Cioè tutto sommato sono un positivo. Quando la mia positività viene interrotta e ci sono queste interferenze, che se per un motivo o per un altro perdo la testa, perché mi sento privato della mia libertà.